I campionati dilettantistici siciliani si avviano alla pausa per le festività natalizie, con l'ultimo turno del 2017 che offre un programma invitante per gli appassionati di calcio del comprensorio ionico etneo. Partendo dall'eccellenza, il jar di Peppe Mascara ospita domani pomeriggio al regionale il Catania San Pio X, probabile la presenza nell'undici iniziale del neoacquisto argentino Julian Weinstein, regista classe 1986, prelevato con un blitz nel corso dell'ultimo giorno di mercato. I gialloblu, sesti a 25 punti, cercheranno così di profittare al massimo dello scontro diretto tra Rosolini e città di Sant'Agata, rispettivamente quinta e terza in classifica, per il rompere in zona playoff e terminare al meglio l'anno solare. In promozione Girone C è un classico scontro fra tranquille squadre di metà classifica, quello che vedrà il fiume freddo di mister Giancarlo Fichiera incrociare il città di Masca Lucia. Scendendo di un gradino, in prima categoria, si presenta probante l'impegno odierno della Russo Calcio, che oggi alle 14.30 andrà a cercare punti sul campo della capolista Sporting Taormina, ancora imbattuta dopo dieci partite. Mister Musomeci sta pian piano recuperando gli infortunati e proverà come sempre a giocarsi le sue carte a viso aperto, in un match in cui i suoi ragazzi non hanno nulla da perdere. Piatto Ricco anche in seconda categoria, dove nel Girone è il lanciatissimo calciogiarra, secondo in classifica, a un solo punto dalla vetta, va a far visita al Catani FC, terza forza del campionato, distante 5 punti dai Gello Blu. Probabile l'esordio dal primo minuto dell'ultimo colpo di mercato, l'attaccante classe 1986 Giuseppe Locerto, proveniente dal Pisano, squadra di prima categoria. Il riposto invece è impegnato oggi pomeriggio a Castel di Iudica, con gli uomini di Tomaselli, terzultimi in classifica, che sperano di tornare alla vittoria contro il fanalino di coda del campionato, che finora ha conquistato una sola vittoria in dieci incontri. Nel Girone D, infine, scontro ad alta quota questo pomeriggio tra la giovanile Mascali, terza in classifica, e la Cronzavoca, seconda. Chi vince può balzare in testa, visto il turno di riposo dell'attuale capolista Limina. Lo Sporting Pasteria sarà invece impegnato in trasferta a Fiume di Nisi.